Chi oggi sostiene l'antifascismo non serve più a niente, secondo me lo fa tendenzialmente per due ragioni che non di rado sono convergenti. La prima è relegittimare il fascismo, invocare un passato non troppo lontano per chiedere nell'oggi delle svolte autoritarie, identitarie, nazionalistiche, escludenti, per chiedere un'idea di nazione per pretenderla che assomigli il più possibile a quel passato che speriamo invece che sia superato. La seconda è invece quella di delegittimare le molte anime dell'antifascismo, o almeno una parte di esse. E invece io credo che oggi più che mai quello che ci ha insegnato la lunga parabola, la lunga vicenda dell'antifascismo vada assolutamente recuperato. A partire dall'inizio, a partire da questo pugno determinato di donne e di uomini che fin dall'inizio appunto si oppongono a un regime criminale, al crimine al potere e lo fanno pagando in primissima persona le loro scelte, clandestinità, esilio, prigionia, morte, confino. Sono tutti gli scotti, i prezzi che queste persone devono pagare appunto nella loro, in alcuni casi, ventennale opposizione a regime. Poi c'è sicuramente il tema della disobbedienza, del saper disobbedire appunto quando il crimine al potere, quando la legalità rappresenta un mondo che non vogliamo. Poi c'è il tema di cosa si è stati disposti a fare per combattere il fascismo e dunque quello della scelta delle armi, un tema scomodo che è stato molto spesso negato, ridimensionato o guardato con imbarazzo appunto negli ultimi anni ma che invece è il nucleo centrale di quella che è stata la resistenza che scocca nel settembre del 43. È una resistenza che è stata una lotta senza quartiere, che ha coinvolto anime diversissime sfondando le barriere di genere, di ceto, di nazionalità addirittura. Appunto penso sicuramente alle donne, all'impegno delle donne nella resistenza italiana da un lato, all'impegno di tutti i ceti sociali dall'altro e alla presenza di stranieri in banda, oltre che ovviamente vecchi militanti è un nutritissimo numero di giovani e giovanissimi, parliamo di centinaia di migliaia di persone. E in ultimo c'è la grande questione dell'unità antifascista che si raggiunse faticosamente, che venne poi subito dimenticata, negata, anche sbeffeggiata, ma che invece è centrale e deve essere l'insegnamento oggi e domani per il mondo che verrà.